Musica Siamo nel giardino inglese della Regia di Caserta, nella zona richiamata le Stufe di Graffier, la prima serra allestita all'interno del parco, dal nome del botanico chiamato a servizio dalla regina Maria Carolina d'Austria. Gli ambienti che erano riscaldati per la cura delle piante sono definite le Stufe e risalgono al 1790. Musica La serra è chiamata anche la casa degli attrezzi perché all'interno sono conservate strutture utilizzate per la manutenzione del parco e la cura dei giardini. Musica Queste serra erano anche luogo di sperimentazione per gli studi botanici. Gli impianti di riscaldamento erano alimentati da caldaia a legna. Musica La serra è chiamata anche... Musica We practically Musica Musica Perché No 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 Grazie a tutti.